Certe storie meritano di essere vissuti più e più volte. Ah, finalmente un po' d'attenzione! Una selezione di film felici di avervi tra noi per rivivere gli anni d'oro del cambiamento, della paura e delle innovazioni. È un fantastico regalo! Sabato dalle 12 a 30 su CineSony, canale 55. Grazie a tutti!